Invertire la prolungata politica dei tagli ai fondi per l'università, prevedere lo sblocco degli scatti degli stipendi con effetto retroattivo, il rinnovo del contratto razionale di tutto il personale tecnico-amministrativo e soprattutto l'avvio di politiche serie di rilancio dell'università con la revisione dei meccanismi della valutazione della qualità della ricerca, particolarmente discriminatori per gli Atenei centro-meridionali. Sono queste le richieste articolate nel corso di un confronto promosso all'Università di Bari con i parlamentari del territorio. Ci sentiamo in qualche modo discriminati rispetto ad altri settori, vogliamo pur in un momento difficile anche non essere considerati qualcosa di diverso. Soprattutto poi il tema del turnover che ha visto fortemente penalizzate le università meridionali e che impone in qualche modo un modello perequativo, un riequilibrio di sistema che oggi si apre anche alla luce della necessità di rivedere i criteri ma anche di destinare risorse in favore degli Atenei in sofferenza. Hanno risposto all'invito Cassano del PD, Matarrese di Scelta Civica, Pannarale di Selle e Cariello del Movimento 5 Stelle. Un confronto doveroso perché è un dovere dei rappresentanti del sud e soprattutto da terra di Bari intervenire su questa disuguaglianza che credo possa essere sanata con una modifica, quindi con una proposta emendativa della legge in corso per rivedere questi parametri che di fatto dimostrano che non solo i cervelli del sud vanno al nord ma anche le risorse che spettano al sud vanno al nord.